Siamo alle battute conclusive, c'è Max sul muro del podio, primo leader che è partito con oltre un secondo di vantaggio, adesso ha 26 centesimi, eccolo là, arriva sull'ultimo muro, 60% di pendenza in quel punto, qui è veramente un delirio in Badia, mamma mia, Plardone non sta guardando, Plardone non c'è, si è abbassata, non vuol vedere, eccolo arrivare, 1'46 e 50, 1'46 e 50, e non ci credo, e non ci credo, è un delirio, Max Plardone! Mamma mia! Mio Dio! Cosa ha fatto? Mamma mia, cosa ha fatto Max? Cosa ha fatto?